Roianese Trieste Academy unita in un progetto nobile e ambizioso che vuole dar valore al calcio femminile. Tutto parte da Gennaro Napolano, veterano del mondo del pallone in forza alla Roianese Calcio, che trovato sia un vicolo cecco con il suo gruppo di ragazze, ha coinvolto la società di Borgo San Sergio. Questo progetto nasce per un semplice motivo. Io avevo delle ragazze anche con me alle Roianese, arrivata a una certa età non possono più andare avanti con i ragazzi e quindi devono smettere. Allora mi sono domandato ma perché smettere? Ho proposto ad Alex e a Ubaldo queste idee, loro le hanno presa veramente con tanto entusiasmo e con tanto entusiasmo andiamo avanti. Cerchiamo di portare questo progetto avanti nel migliore dei modi, perché sapendo che le ragazze adesso fanno questo periodo di crescita giocando contro ragazzi magari anche più piccoli rispetto a loro, però le serve soltanto per crescere. Il prossimo anno andiamo, come diceva Alex, a confrontarci in un campionato nazionale e quindi spero di portare le ragazze nel miglior modo possibile a fare una bella figura. Dopo l'idea alla programmazione, Alex De Bosicchi, presidente della Trieste Academy, avviando già d'estate i camp, ha notato il grosso riscontro ottenuto dalle ragazze interessate. Quest'estate abbiamo iniziato con dei camp praticamente, abbiamo avuto un ottimo riscontro, alla fine siamo riusciti a raccogliere veramente un gran numero di ragazzi, di bambine, di ragazzine e di ragazze e siamo riusciti a completare due squadre. Ci presentiamo quindi ai tornei federali con due squadre, una Pulcini ed una Esordienti. Abbiamo già anche avuto qualche contatto con qualche società professionistica di fuori regione e questa sarà una novità poi che andremo anche a coltivare, questo rapporto che magari ci può dare delle nozioni perché per noi è un mondo nuovo sicuramente, è un mondo che sta pian pianino nascendo ma sta anche prendendo molto piede.